Il censimento che Tronca adesso dice che vuole fare perché a distanza di un anno esatto hanno riscoperto a Fittopoli quando noi l'avevamo denunciato un anno fa, è lo stesso censimento che loro hanno chiesto per tre anni quindi non è una cosa che nasce così perché è arrivato santo Tronca e ha aperto gli occhi alla città insomma c'è qualcuno che lavora da parecchio, poi è vero che non vedi politici in giro per questo posto ma ancora noi siamo politici Beh non è proprio così però Lombardi, non è vero che non siete politici Siamo prestati, siamo prestati a tempo determinato con un progetto praticamente Onorevole posso fare? Eccolo, mi dà un colpo al cuore ogni volta che mi sento chiama onorevole, però dica prego